Gli anziani sono quelli ad alta domanda di sanità, pertanto non possiamo aspettare mesi, 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 anni per avere una visita speciale. Già in una situazione di normalità era difficile, i tempi di attesa erano lunghissimi, le liste di attesa lunghe, dopo il Covid-19, in questa fase, le liste sono ancora più lunghe, per cui chiediamo un intervento finanziario, ma anche un intervento, perché vengano assunti i specialisti, come persone che si possono valutare, per rispondere ai bisogni delle visite specialistiche. Non si riesce a capire perché la sanità privata, in tutto questo periodo ha continuato a fare l'aria, ha continuato a prestazione e la sanità pubblica invece ha calentato o ha chiuso piccoli interventi, interventi chirurgici, specialistici, le liste di attesa.